Cosa dire, la sua esperienza da Hello Blonde Veronica è stata un'esperienza in fase di consulenza un po' di distacco. Questo perché classica bellezza mediterranea, Mora, non voleva assolutamente il bionto. Comunque per farvela breve abbiamo fatto una consulenza e abbiamo individuato un po' quelle che sono le tue esigenze, quelle che non volevi nel modo più assoluto, cioè né rosso né arancio e né una fetta a strisce, qualcosa di estremamente naturale. Com'è andata? Raccontaci un po'? Bene, alla fine avete soddisfatto le mie aspettative. Volevo appunto una cosa naturale che mi illuminasse il viso e penso il risultato si veda. Grazie. A parte lei è bellissima, quindi starebbe bene qualsiasi cosa, ma quello che voleva secondo me un qualcosa che mi illuminasse il viso senza assolutamente toccare quella lunghezza. È un risultato... Senza sembrare artificioso. Sì. Volevo baciato dal sole. Grazie. Grazie a voi. Ciao. 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 Ciao.